Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana, lunedì 5 ottobre. Trasporto pubblico locale, otto ore di sciopero dei dipendenti, sit-in davanti la presidenza della regione. Torneranno a scioperare domani per otto ore i lavoratori del trasporto pubblico locale che manifesteranno davanti alla sede della presidenza della regione in piazza Indipendenza a Palermo dalle ore 10. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cigel, Fit Cisle e Will Trasporti per protestare contro la gravissima crisi finanziaria della regione che si scarica sul trasporto pubblico locale. All'AMAT di Palermo e le aziende che aderiscono all'Astra lo sciopero del personale di movimento riguarderà la fascia compresa tra le 9.30 e le 17.30, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per l'Astra e le aziende dell'ANAB. L'intera giornata per gli impiegati, degli uffici e degli impianti. I tagli della regione rischiano di mettere in ginocchio già dai prossimi giorni trasporti nelle città e nelle aree urbane della Sicilia, spiegano i sindacati. Il presidente della regione e la sua amministrazione facciano prevalere l'interesse della collettività, vengano scongiurati i pesanti tagli economici previsti a danno al settore sia urbano che extraurbano. Tagli che già in parte attuati, se confermati, incidono sui servizi e se dovessero continuare, determineranno una crisi irreversibile delle aziende, anche di quelle più virtuose, che oggi assicurano, sia pure con molte difficoltà, un servizio pubblico capillare, indispensabile per la mobilità dei cittadini siciliani. Per i sindacati la politica regionale sembra assente ed incapace di affrontare una riforma vera, di largo respiro, con obiettivi concreti, per rilanciare in Sicilia il trasporto pubblico locale, e chiedono risorse adeguate per un settore oggi sottovalutato, spesso limitato da sperpero di risorse economiche dovuto alla mancanza di qualsiasi controllo da parte dell'amministrazione regionale. Presentato dalla Giunta Comunale di Palermo lo schema di massima del nuovo piano regolatore, nuovi parchi urbani, autostrade del mare, lavori fognari e nuovi svincoli e sovrappassi. Ecco come sarà la Palermo del 2025. La città di Palermo avrà un nuovo aspetto, sarà certamente più verde ed ecosostenibile, e farà del mare una risorsa da recuperare e valorizzare. Questa è l'intenzione della Giunta Orlando, che ha approvato lo schema di massima del nuovo piano regolatore generale. Quella di cui si parla è la Palermo del 2025, che punterà tutto sulla filosofia urbanistica delle blue e green ways, e su tre nuove linee del tram, induzione magnetica, che collegheranno Mondello a Brancaccio, fornendo una valida alternativa alle auto. Lo schema prevede anche un'area pedonale tra Piazza Politeama e Piazza Croci, con la linea del tram nella corsia centrale, e parcheggio a spina di pesce nelle due corsie laterali che rimarranno aperte al transito. 210 aule scolastiche verranno realizzate per far fronte ad una popolazione che tra dieci anni sfiorerà i 700.000 abitanti. Ci saranno 145 chilometri di piste ciclabili, che saranno uno dei tasselli della mobilità dolce, ed ancora 1.100 ettari di verde, che faranno da contrappeso alla cementificazione selvaggia, e 1.500 alloggi per l'emergenza abitativa. Lo schema di massima del nuovo piano regolatore disegna una città in grado, almeno nelle intenzioni della Giunta, di trasformarsi in dieci anni a esempio di modernità. Palermo 2025, ha commentato Orlando, propone un modello di sviluppo sostenibile. Stiamo costruendo il centro storico della futura città metropolitana. Lo schema verrà inviato adesso in Consiglio Comunale. Una volta approvate le linee guida, l'amministrazione ha tempo tre anni per redigere il PRG dettagliato, che dovrà essere poi approvato da Sala delle Lapidi e dalla Regione. Incidente mortale in via Libertà a Palermo, nello scontro tra due auto avvenuto circa un'ora dopo la mezzanotte all'incrocio con via Archimede, ha perso la vita una donna di 27 anni, Emanuela Urso. Ancora uno schianto mortale a Palermo a perdere la vita è una giovane di 27 anni, Emanuela Urso, residente a Misilmeri. Lo scontro avvenuto tra due auto si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Libertà all'incrocio con via Archimede, a pochi passi da Piazza Politeama. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane, che era barmaid nel noto locale del centro, ai chiavettieri. Il violento impatto è avvenuto tra una Suzuki Swift a bordo della quale si trovava la ragazza e una Fiat Panda condotta da un 21enne. Con lui c'era un altro coetaneo, entrambi di Altavilla Milicia. L'impatto è stato violentissimo, l'utilitaria sul cui viaggiava la donna ha cappottato. La ragazza è morta sul colpo, indenne ma sotto shock il conducente della Panda. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto non avrebbe rispettato il rosso del semaforo. Saranno i vigili della sezione infortunistica che indagano a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. A far luce sul caso saranno soprattutto i video delle numerose telecamere di sorveglianza presenti lungo via Libertà, che verranno esaminati dagli agenti. E non si ferma la scena di incidenti a Palermo. Appena 24 ore prima, nella serata di sabato in Viale Regione Siciliana, un uomo di 40 anni si è schiantato con l'auto contro un albero, riportando un trauma cranico e 18 punti di sutura in testa. Mentre venerdì, a Partinico, un anziano di 82 anni, Antonino Liberato, è stato investito e ucciso da una BMW sulla strada statale 113. Martedì 6 ottobre, mafia, operazione della Guardia di Finanza di Catania contro il clan Mazzei, 7 gli arrestati. Decapitato il nuovo vertice del potente clan Mazzei di Catania, i finanzieri del comando provinciale nell'ambito dell'operazione Nuova Famiglia hanno arrestato 7 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso e rapina aggravata. L'attività investigativa svolta dal GICO del Nucleo di Polizia Tributaria sotto il coordinamento della Procura di Catania ha consentito di definire i nuovi assetti della famiglia mafiosa dei Mazzei, Carcagnusi, individuando i reggenti del clan che ne hanno mantenuto le redini durante il periodo di latitanza del capo indiscusto, Sebastiano Nuccio, e di altri affiliati. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere di tipo mafioso, finalizzata a reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché l'illecita acquisizione e gestione di attività economiche. È stato possibile ricostruire il nuovo organigramma individuando compiti e responsabilità dei nuovi reggenti, delineati i rapporti di gerarchia fra i diversi appartenenti al clan, tutti sobordinati a Sebastiano Mazzei, il quale, nonostante la latitanza, era riuscito a mantenere il controllo delle attività illegali per mezzo del cognato Gioacchino Massimiliano, in Travaia, marito della sorella Simona, già tesoriere della famiglia. Riforma delle province, dopo l'impugnativa del Consiglio dei Ministri, slittano le elezioni per la guida dei liberi consorsi e delle città metropolitane. Riforma delle province, si ricomincia da capo. L'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri costringe infatti a riscrivere parti della legge e la data delle prossime elezioni per la guida di liberi consorsi e città metropolitane. In sostanza, il governo Renzi ha detto a quello siciliano che occorre seguire la legge del Rio, che comporta, tra l'altro, anche tagli alle spese che verrebbero in parte vanificati dal DDL della regione siciliana. Ma come al solito, l'esecutivo di Crocetta non intende sottostare e quindi difficilmente recepirà tutti i rilievi del Consiglio dei Ministri arrivando, se sarà il caso, di fronte alla Corte Costituzionale. Ma anche dei semplici ritocchi faranno slittare la data delle elezioni che era stata fissata per il prossimo 29 novembre. A confermarlo, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali all'Ars, Antonello Cracolici, che sostiene anche che la legge del Rio non è il Vangelo e il recepimento di cui si parla riguarda i principi della norma. Non certo il dettaglio, visto che nel nostro ordinamento non è previsto il recepimento diretto. Festa a Porticello in onore della Madonna del Lume presente anche il Cardinale e Arcivescovo di Palermo, Paolo Romeo. A Porticello si festeggia in questi giorni la Madonna del Lume nella Chiesa Madre custodito il quadro della Madonna del Lume che la leggenda vuole sia stato trovato in mare dai pescatori del luogo. La devozione dei porticellesi nei confronti della loro patrone è davvero unica. Spettacolare è l'evento della discesa del quadro dall'altare. Qualche ora prima della processione il quadro di Maria viene prelevato dall'altare da una folla di fedeli che, passando di mano in mano, lo fanno giungere al centro della Chiesa per la deposizione sulla vara. Questo momento è accompagnato dalle grida di invocazione, acclomazione e lode alla Madonna innalzate da un soggetto a cui la folla risponde. La vara su cui viene posto il quadro è portata in processione per le vie del paese dai portatori della vara. La processione termina con il ritorno in Chiesa, non prima di essere passata dal porto e dallo scalo dove vengono fatti esplodere dei fuochi d'artificio in onore di Maria. Domenica prossima la processione a mare. La nostra festa alla fine unisce, possiamo dire, un po' di sacro e di profano. E quindi diciamo che è un motivo per tutti di partecipare e di vedere effettivamente anche come si svolge la nostra processione che è molto caratteristica. Diciamo che adesso abbiamo aggiunto nella zona di Santa Nicolicchia una resumazione del quadro della Madonna che è molto caratteristica. La prossima settimana c'è la classica processione via mare e anche via terra. Solo che abbiamo noi come amministrazione invitato il comandante generale di tutte le capitanerie e della guardia costiera della Repubblica Italiana. Sarà presente l'ammiraglio anglicano che ha accettato il nostro invito. Sarà presente anche l'ammiraglio Vella, il comandante della capitaneria di Porto di Palermo e anche il nostro comandante del circomare qua di Porticello. Sarà una grande festa perché voi capirete che il nostro paese lavora prevalentemente col mare e quindi è un ottimo e un grande risultato che stiamo ottenendo e avendo qua la presenza di questa grande personalità. Mercoledì 7 ottobre, frana sulla A18, la procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Al momento però sarebbe escluso l'abusivismo edilizio come causa del cedimento. La frana che ha riguardato l'autostrada Messina-Catania mandando in tilt la già precaria viabilità siciliana finisce nelle mani della magistratura. La procura di Messina infatti ha aperto un fascicolo in cui al momento non ci sono indagati. Intanto però l'assessore regionale Giovanni Pizzo, dopo un sopralluogo nella zona, ha affermato che non si è trattato di una frana ma più precisamente di un cedimento di un muro di contenimento. Se fosse stata una vera e propria frana sarebbe venuta giù la montagna, ha detto Pizzo, così come sarebbe escluso al momento l'abusivismo come causa dell'incidente. L'assessore ha precisato inoltre che il genio civile e il comune di Letoianni stanno procedendo a verificare se vi siano irregolarità urbanistiche, ma la vera causa scatenante è la fragilità del nostro territorio, che non è abituato ai cambiamenti climatici. Per questo bisognerebbe attuare un programma di rischio idrogeologico che prende in considerazione i cambiamenti atmosferici. Intanto in cima alla zona del crollo, sulla collina, sorge l'ex villaggio Valturo di Letoianni, oggi in residence privato per le vacanze. Il sindaco Alessandro Costa ha già emesso ordinanza di sgombero per cinque abitazioni dove risultano crepe che destano allarme. La frana non si è ancora stabilizzata, la superficie infatti mostra una parte in cui potrebbero verificarsi ulteriori smottamenti. Al momento il transito è consentito solo sulla carreggiata a valle, in entrambi i sensi, una soluzione tampone per una condizione ben più estesa. Conti in rosso alla Regione, audizioni alla Corte dei Conti, mancano all'appello quasi 500 milioni di euro di entrate nel 2015. I giudici delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti per la Sicilia hanno ascoltato ieri l'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi e quello all'economia Alessandro Baccei. È rifatto tutti i conti con il ragioniere generale della Regione, i dirigenti generali di Tesore e Finanze e dei quattro dipendenti che sono autorità di spesa di fondi comunitari. Le casse della Regione sono in profondo rosso, mancano all'appello quasi 500 milioni di euro di entrata nel 2015. Si tratta di 220 milioni di euro in meno di IRPEF sulle buste paga dei dipendenti pubblici, introiti derivanti dall'IVA 230 milioni e delle tasse automobilistiche 70 milioni. Il nuovo buco paralizza la spesa e potrebbe bloccare i trasferimenti agli enti locali che potrebbero non poter pagare più gli stipendi comunali a novembre e dicembre, ma potrebbe venire meno anche la quota di cofinanziamento regionale alla spesa comunitaria che bloccherebbe la rendicontazione dell'ultima spesa impegnata. La Corte dei Conti ha dunque contestato questa scelta, così come quella di bloccare il cofinanziamento della spesa comunitaria in scadenza. Non ci sarebbe invece nuova spesa in sanità dove le nuove assunzioni sarebbero coperte da scoperture del sistema, fondi per l'emergenza urgenza e comunque non supererebbero la spesa per il personale concordata con il Ministero. Si allarga l'inchiesta sui vigili urbani assenteisti a Palermo sott'esame ai tabulati telefonici degli indagati. Novità sull'inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge 84 persone tra vigili urbani e dipendenti delle ex partecipate a Comunale Coim finiti sotto inchiesta per assenteismo. Si partirà infatti dai tabulati telefonici. Analizzando le celle agganciate sarà possibile indagare sugli spostamenti e sui tempi dell'assenza dal lavoro dei vigili coinvolti. L'analisi dei dati telefonici è stata delegata dalla Procura di Palermo alla Polizia Municipale che ha segnalato la presunta truffa IPM. Secondo quanto venuto fuori dall'informativa del comando dei vigili e dalle immagini delle videocamere acquisite decine di caschi bianchi avrebbero finto di essere in ufficio grazie alla complicità dei colleghi che strisciavano il badge al loro posto. Oltre 400 le posizioni da controllare ma per 84 vigili si è proceduto immediatamente all'iscrizione nel registro degli indagati. Le finte presenze infatti erano talmente numerose da far sospettare una prassi consolidata. Al momento i PM titolari dell'inchiesta Francesco Del Bene e Daniela Varone non hanno intenzione di interrogare nessuno degli indagati. Nessuno ha preso l'iniziativa di chiedere un'audizione del comandante Messina a Sala delle Lapidi. A questo proposito il sindaco Orlando ha dichiarato confermo piena e incondizionata fiducia nei confronti del comandante della Polizia Municipale di Palermo Vincenzo Messina ma il Movimento 5 Stelle fa un appello ai cittadini chiunque abbia sospetti su altri settori deve denunciare. Giovedì 8 ottobre i carabinieri di Misilmeri hanno arrestato due persone ritenuti irresponsabili dell'omicidio di Massimiliano Milazzo un 26enne massacrato e dato alle fiamme due anni fa alla base dell'uccisione futili contrasti tra le famiglie. La telecamera inquadra tutta la scena i due uomini vittime carnefice ignari di essere ripresi saranno i protagonisti di un afferato delitto su cui soltanto adesso si riesce a far luce. Massimiliano Milazzo il 26 giugno di due anni fa venne ucciso nelle campagne di Misilmeri torturato, picchiato gli vennero mozzate le mani e poi il cadavere venne dato alle fiamme. La punizione per un piccolo ladro che dava fastidio ad una famiglia di mafia. Questa mattina all'alba i carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato due persone. In carcere è finito Pasquale Merendino l'uomo nel video accanto alla vittima e Giuseppe Correnti. Sono ritenuti responsabili dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Massimiliano Milazzo all'epoca della morte 26enne. Il movente dell'efferato delitto è stato ricondotto all'atteggiamento irriguardoso che Milazzo avrebbe assunto nei confronti di alcuni membri della famiglia Merendino spacciando droga nei pressi della loro abitazione commettendo piccoli furti. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri è risultato infatti che non corresse buon sangue tra la famiglia Merendino e Massimiliano Milazzo. L'autopsia ha permesso di riscontrare sul cadavere la frattura della clavicola e della mandibola pertanto è evidente che prima della morte l'uomo fosse stato picchiato con violenza. Il taglio delle mani inoltre è una mutilazione di elevato valore simbolico che rievoca la punizione inflitta ai responsabili di furti. Tragico incidente stradale a Paternò nel Catanese il bilancio è di quattro morti tutti giovanissimi. Torna a scorrere il sangue sulle strade di Paternò in provincia di Catania in un terribile incidente fra due moto infatti hanno perso la vita carbonizzati quattro ragazzi tre giovani di 17, 22 e 23 anni e una ragazza di 22. Si tratta di Giuseppe Russo di 17 anni e di Carmelo Parisi di 23 che viaggiavano insieme su uno dei due mezzi sull'altro si trovavano i due fidanzati Antonio Faranda e Valentina Aureliano entrambi i 22 anni le due moto un Honda SH e una KTM sono letteralmente esplose dopo essere entrate accidentalmente in contatto stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri uno dei due mezzi andava a velocità elevata ed è impattato violentamente sull'altro la collisione è stata così violenta che ha comportato l'immediata esplosione dei serbatoi delle due moto le vittime sono state sbalzate quindi dalla sella e sono morte per le fratture e le ustioni riportate nello schianto l'impatto è avvenuto in via Unità d'Italia lungo un violone del quartiere periferico di Scala Vecchia tratto spesso poco illuminato al momento sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di paternoi dei vigili urbani secondo i quali a provocare l'incidente sarebbe stata l'alta velocità di uno dei due mezzi la procura di Catania ha aperto intanto un'inchiesta ma gli investigatori escludono la gara di velocità straziante la scena delle urla disperate dei familiari accorse in breve tempo sul posto Carmelo Cuttitta attuale vicario dell'Arcidiocesi di Palermo è il nuovo vescovo di Ragusa ho accolto ho accolto la nomina che il Santo Padre Francesco ha voluto diciamo per la mia persona chiamandoli a diventare il vescovo di una diocesi della Sicilia una diocesi viva vivace una diocesi dove c'è una fede ardente dove non mancano i problemi ovviamente e dunque vado con grande trepidazione a Ragusa dove starò proprio per essere il punto di riferimento della comunità diocesana come lo è un pastore vado a Ragusa con spirito di servizio e soprattutto con la volontà di volere ascoltare conoscere la realtà per inserirmi in quello che è il cammino della chiesa di Ragusa so che è una comunità impegnata nella fede ed è una comunità impegnata soprattutto nella carità e nel servizio ai poveri la carità sediocesana di Ragusa è impostata molto bene e si preoccupa ed occupa delle difficoltà che la gente vive oggi noi ci troviamo con le famiglie che non hanno più un lavoro non riescono più a mantenere una casa pur essendo la zona di Ragusa una zona dal punto di vista economico e imprenditoriale una zona abbastanza ricca ci sono sempre queste difficoltà venerdì 9 ottobre studenti in piazza a Palermo in occasione del primo corteo studentesco organizzato dal comitato studenti medi contro la buona scuola del governo Renzi studenti in piazza anche in Sicilia per dire di no alla riforma della buona scuola voluta dal governo Renzi in occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta dai movimenti studenteschi altre manifestazioni sono state organizzate dalla rete degli studenti medi anche a Trapani Caltanissetta Vittoria e Siracusa a Palermo circa un migliaio gli studenti scesi in piazza con in testa lo striscione con scritto another break for the future dopo essere giunti al concentramento di piazza Castelnuovo e aver effettuato blocchi stradali mandando in tilt il traffico cittadino gli studenti hanno dato il via alla manifestazione il lungo corteo si è diretto a Palazzo d'Orlean sede della presidenza della regione Renzi parla di buona scuola e innovazione hanno spiegato gli studenti stanziando fondi per la digitalizzazione quasi a voler addolcire la pillola di una riforma che porta a compimento lo smantellamento della scuola pubblica ma quale buona scuola e quale innovazione a Palermo le scuole ci crollano addosso al corteo presente anche un gruppo di studenti universitari siamo qui oggi hanno affermato perché a causa dei nuovi parametri del calcolo Isee migliaia di studenti quest'anno non beneficeranno della borsa di studio né tanto meno degli alloggi il nuovo calcolo rende ancora più inaccessibile un'università come quella palermitana che negli ultimi anni ha subito un vertiginoso calo di iscritti sia a causa dei costi troppo alti sia a causa dell'esodo di massa di migliaia di giovani siciliani verso altri atenei al presidente della regione Rosario Crocetta potrebbe toccare la stessa sorte del sindaco Marino a Palazzo d'Orlean iniziano a serpeggiare i malumori e torna l'ipotesi del voto anticipato emergenza sia economica che politica come mai era accaduto dall'insediamento del presidente Crocetta a Palazzo d'Orlean la crisi finanziaria della regione travolge la maggioranza del governatore che sembra perdere sempre più consensi la prima emergenza è certamente quella finanziaria l'assessore Baccei il ragioniere generale Salvatore Sanmartano hanno studiato alcune possibili bozze di decreto da portare in giunta per bloccare la spesa ed evitare ulteriori danni ai conti regionali la prima ipotesi prevede il blocco di alcune spese correnti servizi consulenze emissioni del personale e degli assessori la seconda bozza prevede invece il blocco totale della spesa ma soltanto per qualche settimana in attesa di verificare uno ad uno gli oltre 100 capitoli di spesa per vedere se ci sono somme non impegnate dai dipartimenti a queste due ipotesi si affianca il varo di una manovra correttiva che invece dovrebbe essere approvata dall'assemblea regionale se confermato il buco da 500 milioni occorrerà riscrivere tutta la parte delle entrate e di conseguenza tagliare la spesa intanto però un nuovo spettro si aggira per le sale di Palazzo d'Orlean dopo il sindaco della capitale Marino dimessosi proprio ieri anche Crocetta potrebbe essere presto invitato a farsi da parte per lanciare la Sicilia verso le elezioni anticipate la prossima primavera che coinvolgeranno anche alcune grandi città italiane Matteo Renzi ci starebbe pensando seriamente e del resto nel luglio scorso il presidente del consiglio aveva lanciato già un chiaro avvertimento al primo cittadino e al governatore si occupino di cose concrete disse Renzi se sono in grado di governare vadano avanti altrimenti vadano a casa basta con la telenovela continua garanzia giovani intilti i pagamenti 25.000 tirocinanti in attesa dei soldi nomi sbagliati tirocinanti che risultano nati ad ottobre 2015 e tante altre imprecisazioni è scoppiato il caos intorno a garanzia giovani il piano che la regione e il ministro del lavoro hanno messo a punto per agevolare le assunzioni dei ragazzi entro 29 anni ma mentre i primi tirocini erogati con un centinaio di milioni sono già arrivati alla fase finale la maggior parte dei ragazzi coinvolti non è stata ancora pagata la colpa ricade su numerosi errori che sono stati riscontrati nei tabulati che dai centri per l'impiego sono arrivati all'IMPS errori che non rendono possibile all'istituto di previdenza erogare i pagamenti a chi lavora grazie a garanzia giovani e nessuno sa con precisione quanti sono ad attendere uno o più stipendi né è possibile prevedere quando si uscirà dall'impasse intanto la regione è ufficialmente chiuso in anticipo i termini per fare domanda siamo arrivati a quota 43.000 il massimo finanziabile illustrano all'assessorato al lavoro e i tirocini già avviati sono abbondantemente sopra quota 30.000 il resto saranno avviati nelle prossime settimane prima che nel 2016 si riparta da capo con nuove domande e altri fondi impossibile però sapere quanti sono essere stati pagati fino ad ora l'IMPS ha solo il dato della spesa dall'inizio del piano sono stati erogati 14,4 milioni di euro molto meno di quanto servirebbe per pagare 30.000 persone con 500 euro al mese intanto la CGL ha già raccolto la protesta dei tirocinanti a cui l'assessore al lavoro Bruno Caruso risponde i ritardi non sono adebitabili a noi ma li stiamo risolvendo con l'IMPS non c'è un problema di disponibilità finanziaria aggiunge abbiamo 100 milioni che da Roma vengono progressivamente inviati all'IMPS non appena maturano i termini per i pagamenti ma avevamo detto fin dall'inizio che gli stipendi sarebbero arrivati ogni tre mesi è tutto grazie per l'attenzione buona domenica grazie a tutti